Sabato torna la giornata nazionale della colletta alimentare. Nella provincia di Prato saranno 20 supermercati che aderiranno, oltre 500 volontari, che inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, distribuiti poi a più di 30 strutture che aiutano migliaia di persone bisognose del territorio. Si raccolgono alimenti a lunga conservazione, pelati, l'olio, il tonno, gli alimenti per l'infanzia, la carne in scatola. Quest'anno c'è anche la possibilità di poterla fare online. Dal 28 di novembre fino al 5 dicembre si può fare una donazione online andando sul sito del banco. I supermercati in cui sarà possibile trovare i volontari saranno l'Esselunga, la Cona, del Penne, Coppa, Vaiano e Poggio a Caiano, Pama, Poggio a Caiano e in via Ferrucci e l'Eurospin. È un'iniziativa importante appunto perché verranno, si spera, siano raccolti più generi alimentari possibili per poter poi ridistruire il tutto in città. Ecco, anche questo è abbastanza importante. Quindi serve per aiutare la San Vincenzo, per aiutare l'Emporio, per aiutare la mensa alla fila e quanti altri poi si occupano di queste cose. Tra i beneficiari della colletta è anche la San Vincenzo De Paoli che gestisce 17 centri di ascolto in tutto il territorio. Abbiamo distribuito 111 tonnellate di genere alimentari a 1500 famiglie per un numero di quasi 5000 persone che sono state aiutate.